Torna la stagione della camerata musicale sul Monese dopo il grande successo del programma natalizio culminato nel balletto dello Schiaccianoci il 26 dicembre nel concerto di Capodanno. Domenica alle 17 al Teatro Comunale Caniglia si esibirà il duo pianistico composto da Leslie Howard e Ludovico Troncanetti. Il duo è oltre che per il generoso repertorio si caratterizza per la scelta dei brani, alcuni dei quali di raro ascolto nel panorama musicale odierno. Howard e Troncanetti debuttano ufficialmente nel novembre del 2016 al Teatro dei Rozi di Siena registrando subito il sold out. Nel gennaio 2018 hanno dato la prima assoluta italiana della Fantasia Opera 73 per due pianoforti di Anton Rubinstein e l'Accademia Cinghiana di Siena. Howard è uno dei musicisti più importanti al mondo, noto per la sua immensa discografia, oltre 130 le incisioni, che riguarda in particolare l'integrale per pianoforte di Franz Litz. che comprende musiche tratte da alcuni manoscritti inediti del grande compositore ungherese. Vincitore inoltre di sei Grand Prix du Disque, nominati dalla regina Elisabetta, membro dell'Ordine dell'Australia per il suo servizio alle arti come compositore musicologo e mentore di giovani musicisti. Viene regolarmente invitato a suonare nei cinque continenti e a presiedere giurie nei più importanti concorsi pianistici internazionali. Troncaretti, che suona regolarmente in numerose realtà musicali sia in Italia che all'estero, ha iniziato lo studio del pianoforte a 13 anni, diplomandosi poi al Conservatorio Verdi di Milano e perfezionandosi a Firenze con il maestro Pier Narciso Masi. Nel 2009 l'incontro con Howard, che gli propone di studiare con lui a Londra. Il 2019 lo vedrà impegnato da solista con Howard in Italia, Russia, Portogallo, India, America e Cina. Prossimamente è prevista l'incisione di quattro sonate per pianoforte di Anton Rubinstein per l'etichetta Movimento Classical. Nel programma di domenica, al Canile, il duo presenterà brani di Rochmaninov e Areschi.